ciao a tutti amici della pancia del poso eccoci qui a commentare questi altri due punti lasciati per strada dalla nostra juve dopo quelli due meritatissimi lasciati per strada con la sandoria questi due decisamente meno meritati lasciate per strada prime buone notizie per un tempo si è vista una se non bella juve bellina via per un tempo ha giocato ci ha messo cattiveria grinta corsa appressato si è visto qualcosa seconda buona notizia miretti o finalmente titolare in una partita importante ha dimostrato che un giocatore che ci può assolutamente stare ha fatto una buonissima partita in una partita ripeto importante e in un contesto misero quale il centro campo attuale giuventino veramente non si capisce perché non ha giocato fino adesso arriviamo alle cattive notizie il secondo tempo abbiamo cercato di gestire e come spesso ci capita abbiamo pagato perché le partite se non si chiudono poi si finisce che si pareggiano se si cerca troppo di gestirle come da costume allegriano poi si finisce per pagare apro parentesi non commento il gol annullato avrei intenzione tutto l'anno di non commentare episodi a favore o sfavore arbitrali perché altrimenti da questo loop veramente non riusciamo più è altra cattiva notizia quando cala l'intensità vengono fuori i difetti endemici un difetto endemico della juve e che dopo due anni abbiamo ancora un cadavere sulla corsia sinistra che alexandro attacca ormai male quasi mai in difesa è un buco perenne su quel buco perenne sul calcio d'angolo c'è stata la sponda di dibale il pareggio del pareggio di abram va bene non sarà facile quest'anno ma ma se proprio dobbiamo essere ottimisti vediamo una lucina in questa terza giornata perché perché noi non saremo anche ma la roma tanto decantata e scarsa noi siamo scarsi quanto e più di noi perché non ha fatto veramente niente veramente niente ieri è stata soggiocata per un tempo e per l'altro tempo timidamente si è affacciata in un paio di situazioni non è questo che basta per vincere il campionato l'inter tra favorita l'abbiamo vista comunque capitolare malamente a roma e aspettiamo il milan e napoli a prove più provanti per capire se veramente hanno qualcosa in più degli altri quindi il campionato è lungo è iniziato adesso quest'anno è stranissimo calma perché poi i giocatori più forti rientrano le situazioni cambiano e c'è la pausa delle dei mondiali è il percorso il percorso è lungo e opinioni che oggi sembrano disastrose che tendono al catastrofismo poi fanno presto a cambiare qui teniamo questo punto che è un punto molto diverso da quello di da quello di genova perché quello di genova è stata una partita veramente indegna questa è stata una partita che si poteva e si doveva vincere non si è vinto perché non abbiamo giocato per due tempi con la stessa intensità del primo è perché per due tempi non abbiamo avuto lo stesso coraggio del primo però abbiamo visto anche che dirette concorrenti non è che siano tutta sta gran figata ciao a tutti amici buona domenica alla prossima